Crypto.com e quindi Kronos hanno un futuro secondo me molto positivo e c'è un potenziale molto ampio per la crescita del valore di questa moneta e di questa piattaforma. Andiamo adesso insieme a vedere qual è il motivo di ciò che ho appena detto e a leggere le notizie principali di questa settimana riguardo la piattaforma di Crypto.com. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e in questo canale mi occupo di finanza personale, investimenti e cripto e quest'oggi siamo qui per parlare di Crypto.com e dei recenti aggiornamenti e delle recenti notizie che sono uscite riguardo alla sua DeFi e al suo progetto Kronos. Infatti sono usciti dei dati veramente interessanti che lasciano presagire il meglio per il futuro di Crypto.com. Ovviamente non adesso perché come sapete adesso è uno scenario veramente difficile a livello mondiale, però stanno mettendo giù un programma che secondo me ha del potenziale e che potrà dare delle soddisfazioni veramente importanti. Quindi ora andiamo sul computer e vi mostro alcuni dati. Eccoci qui sul computer e ci tengo a mostrarvi questo articolo che è stato pubblicato perché qui si parla della roadmap, quindi del percorso che Kronos si è dato appunto, Crypto.com si è dato per portare avanti la DeFi. Notiamo qua alcuni dati ovvero il fatto che nel primo semestre del 2022 la rete Kronos che era stata lanciata poco prima ha raggiunto più di 900.000 utenti che è veramente un numero altissimo se pensate che alla fine le crypto non sono così diffuse. Sono state create su questa piattaforma più di 300 da apps, ovvero decentralized apps, quindi applicazioni decentralizzate, ne esistono come sapete veramente tante. Un esempio può essere PancakeSwap che ovviamente non è su Kronos, però poi ce ne sono molte altre. 4.8 miliardi di dollari sono stati bloccati, quindi per esempio messi in stake, investiti, come sapete ci sono diverse modalità di investimento sulla DeFi e sono state svolte addirittura 480.000 transazioni al giorno. E un'altra informazione è che Kronos si stabilisce, quindi resta fissa nella top 10 delle DeFi. E quindi questo è veramente un dato importante, ci fa pensare a quanto sia importante Kronos perché come sapete ha dei rivali abbastanza importanti. Qui sotto invece ci spiegano che ovviamente il contesto globale economico ha rallentato quelli che sono gli utenti, le transazioni e tutto il resto, ma non perché la catena non è valida, anzi questo non dico, non lo dico io, ma perché ovviamente le persone hanno deciso di tenere i propri soldi in asset meno rischiosi. Quindi alcune hanno deciso di disinvestire i loro soldi in crypto, in azione o in qualsiasi strumento per tenerlo liquido perché è un momento in cui erano più sicure di avere i soldi liquido. Ovviamente questo ha portato, come sapete, tutti i mercati a crollare perché nei periodi di incertezza è così. In ogni caso loro ci spiegano che non si sono andati per vinti e quindi hanno deciso di continuare a sviluppare la loro chain, e quindi i loro progetti per prepararsi al prossimo bull market che non sappiamo ovviamente quando potrà arrivare ma sappiamo che arriverà. Spero ovviamente presto perché siamo tutti curiosi di vedere quali saranno i nuovi massimi che possono raggiungere le crypto o comunque come possono andare i nostri investimenti e se riusciremo a recuperare le perdite che abbiamo generato durante quest'ultimo anno. In particolare evidenziano due punti dello sviluppo che stanno portando avanti. Ovviamente vogliono portare la tecnologia per più utenti, vogliono allargarla a un bacino di pubblico più grande possibile sfruttando anche il Web3 che come sapete è collegato al Metaverse e tutti questi progetti che erano stati annunciati verso fine 2021 che poi però non sono potuti andare in porto per motivi che già sapete, vi ho detto prima, e poi che continueranno a loro partnership e che continuano a sviluppare grazie appunto a Crypto.com, al DeFi Wallet eccetera. Continueranno poi lo sviluppo appunto della DeFi, dell'NFT e appunto del gaming sul Web3, quindi giochi del Metaverse possiamo emotizzare e continueranno appunto a sviluppare, a integrare nuove dApps. Procedendo poi con la lettura dell'articolo ci sono altre notizie che riguardano Northstar e altri progetti sui protocolli, i database, come vogliono implementarli, come vogliono appunto sviluppare il tutto. Ovviamente non vi sto a leggere tutto perché sennò il video viene lunghissimo, però vi lascerò il link in descrizione del video e poi se volete approfondire potete farlo. In ogni caso, quello che dobbiamo portarci a casa di questo articolo è il fatto che i numeri ci sono dietro l'ecosistema di Crypto.com e che erano veramente altissimi, infatti se possiamo addirittura qui notare che c'erano più di 50 milioni di utenti, ovviamente penso ci siano ancora ma non saranno magari attivi, su Crypto.com e quindi su Kronos se ne potevano portare tanti. Soltanto che poi con la crisi ovviamente le persone hanno perso fiducia in questo mercato e si sono un po' allontanate, però per dirvi che c'erano 50 milioni all'interno dell'applicazione e sono numeri parecchio alti, quindi che fanno ben sperare. E poi un'altra cosa che dobbiamo ricordarci sono quelli che sono i progetti che stanno sviluppando e che quindi continueranno le partnership che stanno facendo e continueranno a sviluppare e amplificare il loro progetto per fare in modo che possa sfruttare al meglio il prossimo bull market. Quindi questa diventa solo una questione di tempo prima che possa esplodere di nuovo la piattaforma. Ovviamente non detto al 100%, però le probabilità sono molto buone perché come sappiamo Crypto.com ha sempre fatto bene. Possiamo poi notare le statistiche che abbiamo letto nella pagina prima e come vedete Kronos si trova appunto nella nona posizione tra le chain mondiali. Troviamo al primo posto ovviamente Ethereum che è applicante in battito e poi abbiamo la Binance Smart Chain e vediamo anche che ci sono Polygon, Tron, Avalanche, Solana e ce ne sono comunque altre. Possiamo notare che su Kronos ci sono bloccati, perché TVL sta per Total Value Locked, attualmente 711 milioni di dollari. Ovviamente sulle piattaforme come Ethereum ci sono 32 miliardi, che vabbè è un po' una cifra differente, però comunque parliamo di un numero abbastanza alto per Kronos perché appunto se guardiamo già la 14esima posizione a classifica c'è un terzo di quello che è Kronos, quindi vuol dire che il valore c'è. Ovviamente l'ultimo mese è scesa, anche le altre sono scese abbastanza. Poi possiamo andare ad aprirla per vedere quelli che sono i progetti migliori che ci sono sopra, o meglio i più grandi. Attualmente quello più grande è appunto WS Finance che è andato molto di moda nel periodo passato, poi c'erano anche Tectonic, MM Finance che in realtà poi è andata a crollare vertiginosamente e molte altre che in realtà potete approfondire se siete interessati. Comunque in questo periodo è molto rischioso guardare la DeFi, quindi è solo per farvele vedere, poi se volete e se siete interessati andate pure ad approfondirvele. Un'altra notizia interessante su Crypto.com è che hanno deciso di ridurre le fees per quanto riguarda gli acquisti degli NFT, sia per quanto riguarda i rivenditori che per coloro i quali acquistano. Anche se è uscita questa notizia di Apple che praticamente, vabbè non c'entra direttamente con Crypto.com ma c'entra con il mercato degli NFT, e hanno deciso che praticamente tutti gli NFT che verranno venduti in app sul mercato iPhone, quindi tutti quelli che utilizzano iPhone e scambiano crypto dal telefono, ci sarà appunto una fees del 30% che ovviamente non verrà applicata direttamente al venditore ma all'applicazione che poi probabilmente si rivarrà sul compratore, sul venditore, non so come si organizzeranno però per ora è solo una notizia che è uscita da pochi giorni e quindi vogliono andare a implementare queste fee perché loro sostengono che siano come degli acquisti in app. Non lo so ragazzi, è una situazione abbastanza complicata direi però potrebbe impattare il mercato degli NFT ma è semplicemente aggirabile andando ad acquistare NFT sul computer posso farlo dal telefono secondo me non è così un problema, tanto alla fine non è che acquisti NFT sempre quella volta che lo fai puoi farlo dal computer e quindi ti risparmi tutti questi problemi anche se era più caldo dal telefono però c'è stata aggiunta questa problematica invece andando a vedere sulle notizie del DeFi Wallet vediamo che appunto c'è stata un'integrazione con OpenSea da parte di Crypto.com e questa è una cosa molto positiva anche se parliamo ovviamente solo del mercato degli NFT ma dà comunque una grande importanza a Crypto.com perché OpenSea è la piattaforma più grande in assoluto che esiste per scambiare gli NFT e andando ad integrarsi qui Crypto.com va a raggiungere ovviamente una grande fetta di mercato e può essere molto aiutata sia a livello di utilizzo di Crypto.com perché magari alcune persone su OpenSea possono vedere Crypto.com e poi andare a conoscere la piattaforma o semplicemente per il mercato degli NFT se magari voi lo sfruttate avete diciamo un pubblico maggiore in questo momento perché se no come sapete il mercato di Crypto.com è rivolto solo agli users di Crypto.com poi un'altra cosa che voglio guardare insieme a voi è il prezzo di Kronos che come vediamo possiamo notarlo qui dalle statistiche è sotto da inizio anno di una cosa pazzesca dell'88% infatti è arrivato a toccare i 98 centesimi ormai un anno fa prima di un anno fa preciso era novembre circa fine novembre in realtà attualmente noi ci troviamo veramente tanto sotto siamo su 11 centesimi c'è perché non toccava da veramente non so quanto penso da inizio 2021, metà 2021 quando c'è stato un crollo dopo che aveva raggiunto i 20 centesimi noi ci troviamo veramente molto sotto questo va bene non ve lo sto neanche a spiegare perché tutte le Crypto sono sotto infatti se andiamo a guardarne uno anche come Cardano notavo che la percentuale di... vabbè tralasciamo questa roba che è appena successa negli ultimi minuti c'è stata una perdita incredibile poi il grafico è giornaliero quindi parliamo di una perdita di meno di un centesimo ma era solo per notarle questa cosa però come dicevo se scendiamo notiamo che comunque Cardano è sotto dell'86% dell'inizio anno quindi poi vabbè non guardo Bitcoin e Ethereum perché sono monete molto grandi e non ha nemmeno senso il loro crollo si attesta tra il 60 e il 70% per non guardare Solana per curiosità in realtà che era subito anche lei un crollo pochi minuti fa penso che sia uscita magari qualche indiscrezione o qualche dato adesso non sto vedendo ma qualche minuto fa deve essere successo qualcosa come vedete qui è sotto l'87% quindi Crypto.com è assolutamente a livello delle altre crypto purtroppo per fortuna però è una cosa comunque che non ci fa preoccupare perché se vedessimo che Crypto.com è l'unica sotto dell'88% diremmo magari c'è qualcosa che non va invece se Solana è sotto dell'87% comunque andando su questo sito qui che è DeFi Lama potete notarlo da qui che raccoglie tutte le DeFi possiamo notare che la DeFi di Solana si trova addirittura sopra Crypto.com ma il crollo è stato praticamente uguale poi se andassimo a guardare queste altre mi sa che il crollo è anche peggiore quindi siamo assolutamente in linea col mercato e possiamo comunque avere delle ottime aspettative perché come vedete comunque la market cap è sempre molto alta parliamo di 2 miliardi di dollari e quindi l'importanza sul mercato c'è siamo al 27esimo posto e comunque analizzando il grafico segue bene o male quelli che sono gli altri asset crypto e quindi non si discosta neanche troppo ed è proprio per questi motivi che secondo me CRO ha un futuro oroseo perché lo sviluppo dell'applicazione oltre comunque alle partnership che intratterrà nei prossimi mesi come sapete a novembre ci sarà il mondiale di calcio e Crypto.com è lo sporso dal principale quindi anche lì acquisirà molta notorietà che magari non darà una botta al prezzo che non lo farà salire tanto però avvicinerà molti utenti alla piattaforma che magari inizieranno a guardarla comunque a conoscerla e poi nel momento del bull market magari anche loro investiranno e quindi contribuiranno al prezzo e al suo aumento nei prossimi mesi io ragazzi vi ringrazio per aver visto fin qui vi invito a lasciare un mi piace un commento e anche un'iscrizione e noi ci vediamo al prossimo video statemi bene ciao 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 ciao